Gli studenti delle scuole superiori in Campania torneranno in classe con modalità integrata dal primo febbraio. A stabilirlo è il TAR Campania che con un provvedimento cautelare ha alla fine accolto il ricorso di un gruppo di genitori contro l'ordinanza della regione Campania che aveva disposto alla prosecuzione della didattica a distanza. I ragazzi torneranno quindi in aula rispettando una percentuale tra il 50 e il 75 per cento. Nel decreto infatti il giudice fa riferimento all'ultimo DPCM disponendo che anche la Campania si uniformi al resto del paese. Secondo quanto stabilito dal tribunale amministrativo le istituzioni locali di concerto con la prefettura dovranno stabilire misure idonee a migliorare il funzionamento dei mezzi pubblici e garantire comunque il distanziamento. Il giudizio di merito è stato fissato il 16 febbraio. La notizia del rientro in classe delle superiori segue il leggero aumento dei contagi registrato ieri in occasione del ritorno a scuola delle quarta e quinta elementari. Nel computo dei nuovi positivi figurano anche sei studenti, anche se il contagio non può essere connesso al ritorno a scuola avvenuto soltanto ieri. I sei casi di positività sono emersi in tre distretti di Napoli.